Le elezioni politiche, oggi il voto, urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota in tutta Italia nelle circoscrizioni estere per eleggere 400 deputati e 200 senatori, un numero inferiore rispetto ai 630 deputati e 315 senatori previsti dall'ordinamento costituzionale modificato a seguito della riforma varata col referendum del 2020 che ha introdotto il taglio del numero dei parlamentari e novità anticipato a 18 anni l'età dell'elettorato attivo per il Senato. Nella nostra regione sono poco più di 1.200.000 gli aventi diritto al voto. L'Abruzzo è chiamato a eleggere 13 parlamentari, 4 senatori e 9 deputati con una ripartizione di seggi dettata dai 4 collegi abruzzesi, uno unico per il Senato e 3 per la Camera dei Deputati suddivisi nel Collegio di Chieti, l'Aquile Dentroterra Terramano e Pescara e Costa Terramana. E prima di proseguire voglio fornirvi i dati dell'affluenza in Italia e nella nostra regione a mezzogiorno. In Italia, il dato nazionale, l'affluenza ha superato il 19% in linea con le elezioni del 2018, invece di contro in Abruzzo si va controcorrente perché ha votato il 17.17% degli aventi diritto contro il 19.39% del 2018. Andiamo ora a parlare delle singole province dove si è votato di meno almeno, il dato è fermo, a mezzogiorno è quella di Chieti con il 15.89% le precedenti elezioni politiche 19.50%, l'Aquila 17.34 contro il 18.58 del 2018, Pescara 17.82, 19.87 precedenti elezioni e stesso orario, terramo 17.96% contro il 19.53%. Questi sono dunque i dati dell'affluenza alle ore 12 a mezzogiorno. Votando con il Rosatellum bis, un sistema elettorale misto tra maggioritario o uninominale e proporzionale o plurinominale, gli abruzzesi manderanno a Roma 13 parlamentari, 4 di cui 3 deputati e un senatore saranno eletti tramite il sistema maggioritario o uninominale per cui ad aggiudicarsi il seggio sarà chi prenderà più voti, mentre i restanti 9 eletti che nello specifico saranno 6 deputati e 3 senatori emergeranno dal meccanismo del proporzionale o plurinominale con liste bloccate che non consentono all'elettore di esprimere preferenze sui candidati. Al Parlamento accederanno coloro che saranno eletti dopo aver superato la soglia di sbarramento, cioè la percentuale minima di preferenze, oltre alla quale non si ottengono seggi, fissata al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste che corrono da sole. Recandosi alle urne, ciascun elettore dunque riceverà due schede, una di colore giallo per il Senato e un'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati in base al proprio collegio di riferimento. Si vota e si vende un documento di identità e la tessera elettorale che se smarrito senza più spazi per i timbri potrà essere richiesta presso gli uffici elettorali del proprio comune. I modi per esprimere la propria preferenza sono sostanzialmente tre. Il primo è barrare il simbolo del partito prescelto in modo da accordare la preferenza sia al candidato dell'uninominale che a quelli del prurinominale. La seconda modalità è barrare sia il simbolo del partito che il nome dell'uninominale. Infine la terza opzione prevede una croce sul nome del candidato all'uninominale, nel qual caso la preferenza al partito verrà accordata in proporzione ai voti ottenuti tra le liste della coalizione e non è possibile il voto disgiunto pena l'annullamento della scheda. Dunque è bene prestare molta attenzione. Voglio ricordarvi e abbiamo anche il nostro promo che come tradizione vuole Rete 8 seguirà in diretta lo spoglio elettorale con una lunga maratona in sinergia con il quotidiano Il Centro. A partire dalle 22.45 il direttore Carmine Perantuone e gli ospiti studio commenteranno a caldo i risultati di queste elezioni con collegamenti in diretta e aggiornamenti in tempo reale sul canale 10 del Digitale Terrestre e streaming sul sito www.rete8.it che sarà costantemente aggiornato e sulla pagina Facebook. Ricordiamo che lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Uno sorso tecnico e giornalistico per una diretta che andrà avanti fino a tarda notte. L'appuntamento è a partire dalle 22.45.